... Ho una questione di grazia e bellezza di cui vorrei... Ho inviato un messaggero alla conquista per informare tutti. Felice di vederti. Non ci sono parole per Ersa. Sapere che è viva e poi perdere la speranza è crudele. Ersa non vorrebbe troppi discorsi. Vorrebbe che trovassimo Derval. Ha detto che parlava di fumo che ricopre il sole. Digli che cosa hai scoperto. Una lettera. Parla di un carico di vampa spedito a un deposito qui. Solo che non era indirizzata a Derval. Ma un certo Elund il forgiatore. Questo nome vi dice niente? Mi suona familiare. Sì, è un signorotto. Gli Oseram hanno comprato diversi edifici in tutta la città, compreso uno a quel nome. Fammi pensare. È al confine della messa, vicino al tempio. Era un negozio. Ora potrebbe servire da deposito. Se Derval ha usato quel nome per comprarlo, potrebbe essere perfino lì. Radunerò i miei uomini. Ci vediamo là. Eren t'aspetta. Ricorda che nessuno odia Derval più della tua tribù. Gli altri clan pagherebbero pur di averlo. Prenderlo vivo. Per usarlo come merce di scambio non puoi dire sul serio. La nostra sicurezza dipende dal mantenere la pace. Se si presenta l'occasione, prendetelo vivo. Consideralo un ordine. A lui, un momento. Grazie. Quando abbiamo parlato, Erend ha sorvolato sui dettagli della morte di Ersa. Comprensibile, certo. Ma ora che sono solo con la mia immaginazione, penso sempre a quei dettagli. Tu eri lì. Ha sofferto. Ora non possiamo preoccuparcene. Quello che importa è catturare il suo assassino prima che colpisca ancora. Mi sembra di sentire lei. Hai ragione, ovviamente. Trova Derval e portalo al mio cospetto. Risponderà dei suoi crimini. Potrà rilassarmi. Mi concedi un attimo, straniera? Che capolavoro. Abili avventurieri! Preferibilmente senza amici o famiglia. Ma non metto paletto. Il posto è questo. Sei a casa, Derval? C'è una sorpresa per te! O lui ha una sorpresa per noi. È una bomba. Non mi sembra grave. È una bomba, sì. Ma basta ad ucciderci. Bene. Starò zitto. Vampa. Deve esserci una perdita al piano di sopra. Se provassi a smantellarla, una trappola la farebbe esplodere. Se la bomba esplodesse, la vampa scatenerebbe una tempesta. Se la bomba di sotto esplodesse, sarebbe come Derval ha promesso. Il fumo oscurerebbe il sole e la città finirebbe in fiamme. Deve esserci un modo per fermarla. Sembra un supporto di lungo. Non molto solido. Aiutami a spingerlo fuori. Ok. Forza brutta, nessun problema. A che serve? A salvare la città, spero. Ma quando la vampa cadrà, scappa. Perché innescherà la trappola sulla bomba al piano di sotto. Sopravvivremo? Probabilmente no. Ora spingi. Oh, sì. Era l'unica occasione di Derval. E Meridiana è ancora in piedi. Non è finita. Derval voleva che Avad guardasse. Impossibile. Dovrebbe entrare nel palazzo. Ed è ben difeso. Torniamo indietro, per sicurezza. Io guardo in giro. Forse gli uomini di Derval hanno lasciato qualcosa. Ok. Tranquillo. Se provo a entrare a palazzo, è finito. Tracce di stivali. Sono un po' sporchi di vampa. Potrei offrirti una quota ragionevole di opportunità. Giù c'è delle fiamme e create una catena umana. Compra quello che ti serve. Ma cosa? Non sentivo un'esplosione del genere dalla rimazione. Parliamo unico. No. Facciamo una bella discussione. C'è del fumo che risale dal confine di Meridiana. Siamo sotto attacco. Le tracce proseguono dentro. Un altro dei nascondigli di Derval. Deve essere qui che Derval ha assemblato il detonatore. Oh no! Ha scavato un tunnel nella parete. Derval è riuscito a entrare nel palazzo. Derval. 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 Buon action! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. L'erede di un re pazzo che si dimena. Mi hai privato del diritto di uccidere tuo padre, quindi dovrò accontentarmi di te. Mi divertirò a vedere i carciabrociare, soprattutto perché tu assisterai insieme a me. Dì addio alla tua meridiana, Avad. Respira il fedore e soffoca nelle ceneri. Qualcosa non va. Io non ho sentito niente. C'è del fumo che sale dal margine della mesa. No! Dovrebbe essere un inferno e non il fumo di un carbonaio! Dovrebbe essere un inferno. Dovrebbe essere un inferno. Dovrebbe essere un inferno. Cos'è stato? Ah! Tu devi essere la Nora che ha attaccato la mia base. Hai disattivato la tua bomba. Sei stata tu. Bah! Bomba o meno! Imbratterò quel trono con il sangue. Prima il tuo. Poi quello di Avad. Contatto! Possiamo muoverci. Ho un re sole da uccidere. Per me arriva la morte. Non sono qui. Guardate cosa ho trovato! Non è ancora finita, Nora. Come ogni inventore, Oseram che si rispetti. Io ho sempre un terzo piano. Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te. Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te. Spero che mi piaccia affrontare queste cose, perché ne stanno arrivando altre! Spero che mi piaccia affrontare queste cose, perché ne stanno arrivando altre! Sì! E' un momento. E' un momento. E' un momento. Sì, questo è utile. Anche se vorrei che Ersa fosse qui per ucciderti, non mi spiacerà farlo io. Va avanti. Non ho paura, ma visto che si tratta di te, Erend, fallirai! Io so qual è la tua paura. Tornare a prima fonte in catene. Ogni clan della conquista ti vorrebbe morto. E sa come farlo in modo doloroso. Farebbero a gara per il privilegio. È proprio da te lasciare che gli altri uccidano al tuo posto. Silenzio. Sei nelle mani del Re Sole adesso. A Loi, dirti che hai tutta la mia gratitudine non è sufficiente. Mi hai salvato la vita e hai salvato Meridiana. E verrà fatta giustizia per l'omicidio di Ersa. La piangeremo sapendo la verità, senza dolorose incertezze. È difficile pensare a dove saremmo senza di te. E non voglio farlo. Spero che vorrai restare a Meridiana. Tu ed Ersa eravate… Voglio dire… Immagino sia ovvio come mi senta. Cosa provassi per lei. Non mi dava solo consigli. Mi dava forza. Non potevo stare con lei. Le relazioni fra Icarja e gli Oseram a Meridiana sono sempre state instabili. L'unione fra il Re Sole e una guerriera Oseram avrebbe scatenato una rivolta in città. E forse una guerra fra Klanna. Qualcuno lo sapeva? Solo uno. Derval. Voleva Ersa, ma lei lo rifiutava. E così la gelosia è diventata un altro dei suoi motivi d'odio. Cosa succederà esattamente a Derval? Per adesso resterà rinchiuso in una cella sotto al cerchio del sole qui a Meridiana. Ciò che succederà dopo che avremo negoziato la sua estradizione a prima fonte, ora non mi importa. Mio padre era molto creativo quanto a torture da infliggere. Ma alcuni congegni Oseram superano anche la sua inventiva. Che spreco. Derval è un uomo brillante. Chissà cosa avrebbe realizzato se non fosse stato per mio padre. Io so chi ha attaccato in ora. Una fazione dei Carja delle Ombre chiamata Eclissi. Stanno riesumando macchine antiche. Armi che vogliono usare per colpire Meridiana. Capisco. Questo conferma le voci che ho sentito da Marad. Una cellula dei Carja delle Ombre. Macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Faremo di tutto per prepararci. Tienimi informato, per favore. A Loi. Stavo giusto pensando a Ersa. Lei avrebbe ucciso Derval. Lo so. Ecco perché era andato a incontrarlo. Per eliminarlo. Ma... Mi ha anche detto di crescere. Lo ammetto un po'. Mi ha fatto male. Ma ne farò tesoro. E suppongo che crescere significhi fare ciò che devi e non quello che vorresti. No? A me lo chiedi. Sono certa che hai più anni di me. Già, ma non mi comporto da tale, vero? Con Derval l'hai fatto. Non darmi troppo credito. Se ci penso aspetto ancora l'occasione per rompergli il collo. Sì, ma non lo farai. Perché sei un bravo capitano. Ora basta. Mi farei piangere. Quindi, dopo tutto questo, che ne sarà di Erend l'Avanguardia? Tornerò per un po' alla conquista. Mi metterò in contatto con il mio clan e daremo sepoltura a Ersa. Come vorrebbe lei. E intendo meno chiacchiere e più birra. Che cosa pensi che faranno gli Ozeran a Derval? Per iniziare, ne discuteranno per molto tempo. Ma qualsiasi cosa decidano, non sarà rapida. Me ne farò una ragione. In effetti, potrei passare dalla sua cella sotto il cerchio e ricordargli cosa lo aspetta. Beh... Lo so, ora devi andare. Assassini da scovare, macchine da domare, tutto a prima di colazione. Sai una cosa? Quando ti ho visto, pensavo fosse un bel colpo parlare con una bella ragazza nascosta in mezzo a nulla. Ma ora capisco che sono stato fortunato ad avere un minuto del tuo tempo. Cerca di non dimenticarmi quando sarai là fuori a cambiare il mondo. Troverò sempre un minuto per te. Magari anche due. Due? Le piaccio. Le piaccio. Te noi! Te noi! Le piaccio.